Allora, replichiamo Antonio Scotto Pagliari con il signor De Crescenza. Probabilmente dopo la performance l'atleta, Antonio Scotto Pagliari, l'atleta Scotto Pagliaro, è disponibile per una conferenza stampa, cioè tutti potranno chiedergli o replicare o qualsiasi cosa. Lui è a disposizione dei contendenti, punto. No, per me è uguale, sono belle parole che ha detto Rosario, quindi mi associo a lui e è uguale per me. Dare spiegazione sulla gara come sarà andata e magari dare anche qualche consiglio dove hanno... Ma magari i consigli non sono d'accordo perché basta andare con lui, si guarda e si impara, quindi lui non ha bisogno di dare consigli, anzi, secondo me farebbe bene a non darmi... Io sarei onorato, io sono onorato, devi consigli tanto Antonio Scotto Pagliari. Ma fa bene la montagna? Comunque rimaniamo così, ok? Poi diciamo gli errori vengono corretti con il tempo, magari ecco perché faccio questo, faccio questo per insegnare, per diciamo dare dimostrazione... Inbagliare alle nuove generazioni a praticare il ciclismo è un modo... Allo scoperto, è la prima cosa, perché mettersi a ruota non insegna niente, non fa niente, non serve. Ok Antonio, grazie, grazie Antonio, ciao a domenica. Io ringrazio a tutti e ci vediamo domenica. Ciao, mi gioco a mangiare. Ma io voglio fare, voglio comunque un po' di rocchette cruci, mercoledì vado, non ho problemi... E con me Vitale Piscopo, buongiorno Vitale, che domenica parteciperà a questa, diciamo, chiamavano caro, eh? No, io partecipo alla passeggiata. Alla passeggiata, perché passeremo nel gruppo, nella pancia del gruppo, fino alla fine. Tranquillo, vediamo... Tranquillo, sistemati. Sistemati, insomma, faremo la nostra partecipazione senza forzare, perché delle competizioni ci saranno... Trovando i battiti e le gambe. Stiamo cercando di arrivare alla forma perfetta, diciamo perfetta. Grazie Vitale. Io ho chiesto di staccarmi Vitale Piscopo in salita, perché crede di non staccarci in salita. E là si è capito ancora con chiacchia a fare. Allora facciamo così, Giuseppe, io gli do questa rivincita a tutti i club, a tutti che hanno partecipato all'altra volta. E poi coloro che vanno più forte in salita, poi per i scalatori facciamo un altro appuntamento, un altro tipo di precursor e accontentiamo anche i scalatori. Detto questo, detto tutto, quindi facciamo le cose... Una sfida a 360 gradi, sia sulle salite, sia sulle salite, sia sulle salite. Dobbiamo accontentare tutti, perché dobbiamo fare le cose fatte per bene, quindi... nessuno poi deve, come devo dire, farsi con quell'illusione, quella cosa e dicendo no, ma tu puoi in salita, in discesa... No, no, tu... Appuntiamo di amostrazione in tutti i pezzi. Appuntiamo tutti in salita. E si prepara e devono provare. Stai, quando il mio grande sponsor è meglio che la finiamo qua, altrimenti Mario... Mario Restucchi. Ma un bacio anche a Mario Restucchi, è un carissimo amico, figura di un popolo. Che è molto... Presente nella donna di Danilo. E niente, Mario deve essere anche lui presente, Mario. Esatto, sì. Questa volta la borraccia la mettiamo con la catenina. Ci diamo anche la possibilità di rientrare, va bene? Ok, grazie. Detto questo, Mario... Più di questo non posso fare... Eeeh, non posso fare niente. Eeeh, niente, poi per Vitale facciamo il prossimo percorso, un percorso pieno di salite. E quindi... Buongiorno. Avrà anche tu la possibilità di rispettarsi. E infatti. Chiara. Eeeh, detto questo... Va bene Antonio, e Danilo lo bacchia tutto. Ciao Mario, buongiorno. Buongiorno.